Fratelli, Italia, Italia, se ne sa, vedremo, discipio, se ne sa. Mi fa molto piacere, buongiorno, a vedere tutti questi ragazzi e queste ragazze. Io non ho molto d'aggiungere le parole del mio Presidente perché c'è un'assoluta sintonia rispetto al senso dello giusto e di futuro. Secondo, mi sembra un atto di civiltà perché vuol dire riconoscere, siamo un diritto fondamentale, terzo vuol dire anche fare un investimento sul futuro perché questi bambini saranno i migliori messaggeri di cultura, di diritti italiani ed occidentali presso il loro comune. Si lega il tema delle politiche sull'immigrazione al tema della sicurezza.